Intensa attività della questura di Crotone dei servizi di controllo sul territorio nell'ambito del piano Focus Drangheta in questa settimana che ha portato all'arresto di due persone e alla denuncia di quattro soggetti. Il 27 febbraio si sono resi necessari ben quattro interventi. Due soggetti sono stati segnalati in qualità di assuntori. Si tratta di un 39enne crotonese e di un 26enne milanese trovati in possesso di modici quantitativi di cocaina e marijuana. Un altro giovane del posto, appena 24enne, è stato rintracciato per il reato di truffa a seguito di segnalazione da parte della questura di Catania. Infine, un 41enne del posto è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente, ossia 1,55 grammi di cocaina. Il 28 febbraio tre soggetti sono stati segnalati in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di due giovanissimi crotonesi di 23-18 anni, trovati in possesso di pochi grammi di ascici e un 23enne di cariati, trovati in possesso di 1,43 grammi di cocaina. Nelle vie del centro città, inoltre, sono stati rinvenuti 1,63 grammi di marijuana, sequestrati a carico di ignoti. Il mese di marzo si è aperto sempre con una segnalazione di un assuntore, un 27enne del posto, trovato in possesso di 0,27 grammi di marijuana. Nel corso della stessa giornata poi è stato arrestato un 28enne afgano per il reato di associazione a delinquere, venendo dunque trasferito al carcere cittadino. Intervento a Ciro Marina il 3 marzo, dove un 47enne del posto è stato denunciato per minacce. Il 4 marzo, invece, è stato fermato un 26enne originario del Sudan, su richiesta della DDA di Catania, ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere e di immigrazione clandestina, aggravata in concorso. Nella stessa serata è stato segnalato come assuntore un 31enne crotonese trovato in possesso di 0,86 grammi di marijuana. La settimana si conclude con diverse operazioni, svolte nel corso del 5 marzo, a partire dalla denuncia a carico di un 46enne del posto, trovato in possesso di un coltello di 21 centimetri e di 0,57 grammi di cocaina. A seguito di perquisizione è emersa anche una sigaretta artigianale contenente dell'ascisci. Controllati anche numerosi esercizi commerciali, nel corso dei quali è emersa una dipendente non assunta presso un locale di Ciro Marina, che ha portato ad una serie di verifiche amministrative sull'attività stessa e sul titolare. Sono state identificate complessivamente 822 persone, controllati 383 veicoli ed emesse 35 sanzioni per violazione al codice della strada. Sei invece le multe per il mancato rispetto delle normative anticontaggio.